Auto Vittani a Castione Andevenno in via Rosette 1 a www.autovittani.it Morbegno al lavoro per un turismo di alta gamma. Il primo step è stato avviato mercoledì sera con la presentazione delle linee di indirizzo del piano turistico che coinvolge Morbegno da parte del relatore Massimiliano Serati, direttore di visione ricerca applicata advisory della Luke Business School. Un progetto ancora in fase embrionale ma si incominciano a intravedere gli obiettivi e le strategie come la ricerca di un'accoglienza turistica e l'idea di restituire benessere al visitatore. Nella lunga curata di esamina da parte del professor Serati collegato in videoconferenza sono dunque già stati individuati dei precisi percorsi da seguire. Ci serviva un faro da seguire. Questo faro permetterà di allineare gli sforzi che già vengono fatti da tutti gli stakeholder nel perseguire i loro obiettivi e centrare l'attenzione sul benessere. Tra le tante definizioni che ho pescato del benessere a me piace citare quella che fa riferimento all'assenza della volontà di essere altrove e proprio per dire perché venire a Morbegno ma perché si sta bene. Già una tradizione di accoglienza, questa tradizione deve essere rinforzata, sviluppata e creare occasioni e sinergia anche con i territori circostanti e soprattutto attrarre investimenti. Una parte di questo impegno sarà a carico dell'amministrazione comunale ma per realizzare il progetto a 360 gradi servirà anche l'aiuto e il sostegno da parte di enti, istituzioni, privati, cittadini, quest'ultimi chiamati a cambiare atteggiamento nel loro modo di vivere. La ricerca di un benessere cittadino deve essere il risultato finale. L'idea è poi di estendere questo sviluppo turistico in tutto il mandamento. C'è una visione del territorio, del comune di Morbegno ma se uno lo guarda attentamente si rende conto che l'attenzione che si fa che pone al centro gli elementi di attrattività fondamentale che lui ha colto che sono l'ambiente e il paesaggio e gli elementi monumentali o della cultura si fa riferimento a un territorio che non è che si chiude nel perimetro del comune di Morbegno. È un progetto aperto a tutti i partner e stiamo parlando di partner che non lavorano solamente dentro il comune di Morbegno. È un progetto che necessariamente mette in gioco altri territori addirittura fuori dal mandamento di Morbegno perché si è parlato del territorio di Sondrio e si è parlato del lago. Nel momento in cui Sondrio ha presentato il progetto ci è sembrato naturale e logico agganciare l'assessore di Sondrio proprio parlare con lui della cosa e poi proporre di rivolgersi sempre alla Business School e a Professor Serati sulla base di due principi sinergie per evitare proprio interferenze e copiature con quello che già sta facendo Sondrio e Valmalenco e soprattutto economie di scala anche perché parte del lavoro di analisi del sistema macro e di medie dimensioni era comune.